Una ricognizione tra le società partecipate della regione siciliana così da rintracciare eventuali vuoti di organico da colmare attraverso questa categoria di precari. Questo l'annuncio fatto dal governo regionale durante l'incontro con una delegazione di lavoratori del bacino ex PIP, Piani di Inserimento Professionali. Presenti il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, che hanno affermato abbiamo già avviato una due diligence sui profili presenti e sui posti disponibili. A seconda delle richieste che arriveranno dagli enti potremo riuscire in una prima fase a ridurre intanto il numero di precari ancora nel bacino. Nel frattempo a Roma proseguono, tratteremo per il superamento dei tetti di spesa previsti dall'accordo Stato-Regione, un vincolo tuttora vigente che ci limita. Il governo regionale sta già facendo tutto quanto e nelle proprie immediate possibilità per risolvere questa decennale pagina di precariato e non cesseremo di interloquire con il governo nazionale fino a quando non si troverà una soluzione definitiva e sostenibile che restituisca dignità professionale a tutti questi lavoratori. Sulla questione intervengono anche Nicolo Scaglione e Mimmo Russo della CISAL che parlano di un percorso che permetterà di porre fine ad una lunga stagione di precariato e ancora, sottolineano, abbiamo chiesto con forza l'attuazione dell'articolo 25 della legge 16 del 2022 che prevede l'assunzione nelle partecipate e per il quale è stato istituito un tavolo tecnico presso l'assessorato al bilancio con una convocazione per giovedì prossimo ponendo anche l'esigenza di affiancare un iter di accompagnamento volontario alla pensione. E proseguono, il governo si è inoltre impegnato a verificare nella prossima finanziaria un adeguamento del sussidio dei lavoratori su base Istat. Grazie